Sono Rocco, ho 26 anni, vengo da Caserta ma vivo a Milano. Non lo so cosa mi aspetto da Project Runway, il sogno di sfilare tra i grandi della moda. Ho iniziato fin da piccolo perché ho uno zio fotografo di moda. Stando lì a 16 anni ho iniziato a fare lo stylist e poi ho deciso che la mia strada era un'altra. Il mio più grande riferimento è sicuramente un altro stilista, che è Gianni Versace. Gioco molto con la provocazione, per me una donna può stare con l'abito lungo la mattina e con la tuta la sera. Sicuramente in Italia nella moda manca la libertà, quindi nessuno può uscire come vuole. Per quanto si finga libertà non c'è. Io sicuramente vorrei vestire tutte le cantanti pop, non ce n'è una in particolare, me le piglierei una alla volta e una dopo l'altra. Ovviamente la mia preferita è Eva, vabbè ma su questo lo sanno tutti. Lo sa pure lei, glielo dico tutti i giorni. Grazie.